È nota per il suo doppiaggio di Ashley Tisdale nella serie di Disney Channel Zack e Cody Algrand, o Telle nella serie di film High School Musical. Sempre per la Disney ha doppiato Candace Flynn nella serie televisiva Phineas e Ferb, Chelsea Staub nella serie televisiva Jonas e Baby nel mondo di Patty. Ha doppiato Ashley Olsen nel ruolo di Jane Ryan in Una Pazza Giornata a New York, Alison Maikolka nel ruolo di Keylight e Slow in Fille dal Futuro. È ancora Tiffany nel DCOM e Ice Princess Un Sogno sul Ghiaccio, Alex Johnson in Instant Star. Inoltre ha doppiato Musa nella serie animata Wings Club e Kirsten Prout nel ruolo di Amanda Bloom. Nella serie TV Kylie XY Ha prestato la voce a Katie nelle serie A Tutoriality.